Come rendere l'Italia un hub del software a livello europeo? Lo studio in fondo parla di questo e ci dia qualche indicazione in più. Le indicazioni sono molto semplici. L'Italia è un paese attrattivo di per sé perché ha tutte le caratteristiche per attirare gli investimenti delle aziende produttrici di Trosper. Ha le università, ha le persone, ha le competenze, ha anche un costo ragionevole del lavoro competitivo e quindi si tratta di creare e mettere insieme tutte queste condizioni e farle diventare una ricetta di attrazione. È chiaro che ci vuole un endorsement governativo. Se il governo e le istituzioni comprendono l'opportunità tutto questo può viaggiare ad una diversa velocità.